4 italiani su 10 a caccia di sconti, con un budget medio di 120 euro ad un massimo di 200. È iniziata oggi la stagione dei saldi invernali, anche in Molise le vetrine espongono il cartello della scontistica, anche se il Covid frena le spese pazze e gli assembramenti. Nonostante questo, giro d'affari complessivo stima Confu Commercio, che sale a 4,2 miliardi in crescita di 300 milioni di euro rispetto all'anno scorso. Per il Codacons, tuttavia, il calo delle vendite rispetto al periodo pre-Covid sarà del 21%. Per tutto il settore del commercio l'attesa è alta e si spera in una boccata d'ossigeno. Rispetto ai saldi invernali del 2020 siamo indietro di 900 milioni di euro, ha spiegato però Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Italia Confu Commercio. Lo scontrino medio pro capite passa dai 111 euro del 2021 ai 119 euro di quest'anno, ma sarà ancora inferiore di 21 euro rispetto al 2020, quando era pari a 140. Numeri che per il Codacons sanciscono il flop dei saldi invernali in previsione di una contrazione delle vendite del 21%, anche per l'impatto del caro bollette e dei rincari generalizzati dei prezzi, che farà calare il giro d'affari complessivo per oltre un miliardo rispetto ai 5,2 miliardi di euro del 2020. Anche gli sconti sono ben lontani dai valori pre-pandemia perché la crisi è indotto i commercianti a contenere i ribassi rispetto al passato nel tentativo di rifarsi delle perdite.